Chievo-Juventus 1-2, come potete notare in alto manca lo stemma del Chievo perché, incredibile ma vero, si è scansato anche il Chievo ragazzi. Una Juve brutta e deludente vince ancora una volta grazie all'avversario che si scansa. Ennesimo campionato falsato, ma come fa una squadra del genere ad essere prima? Gioco noioso ed inguardabile, difesa che ha subito 9 gol in 12 partite, centrocampo inesistente senza Pogba e con un Pjanic irriconoscibile con 4 gol, anche se sarebbero 5, e 4 assist in stagione. Manzuki Cediguain che litigano continuamente ed un allenatore incompetente che vince soltanto grazie a Conte che intanto in Inghilterra mostra calcio spettacolo. Un po' come il Napoli, ma d'altronde l'ha detto anche il nostro mister dopo il match. Noi non siamo ancora ai livelli del Napoli che gioca il calcio migliore d'Italia ed è sesto a meno 9 dalla Juve, ma cercheremo di provarci. Nel frattempo voi scansatevi perché la capolista se ne va. Alla prossima!